È approdato a Cremona e verrà esposto al Museo del Violino, il Violino del Mare, strumento costruito nel laboratorio di liuteria dai detenuti del carcere di Milano Opera, con il legno ricavato dalle barche dei profughi sbarcate a Lampedusa. Lo strumento si inserisce nel progetto Metamorfosi, promosso dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. Gliutaio Enrico Allorto insieme alle persone detenute hanno fatto un violino. In quel momento è nata l'idea di creare un'orchestra, quella che sarà poi l'orchestra del mare. C'è un'orchestra che dia voce a tutte le persone che non ce l'hanno fatta, che sono morte nel mar Mediterraneo. Sul progetto è stato realizzato un cortometraggio proiettato al Festival del Cinema di Venezia, che mette in luce il legame tra la cultura ad essa per fare l'utario e la società. Un violino che genera musica e un violino che segna di pace, un violino costruito in un modo interessantissimo, che permette ad altre persone di riscattare se stesse, di riprendere in mano la propria vita. L'intenzione è far conoscere ai giovani la realtà dei migranti. Ecco perché saranno proposti momenti musicali nell'auditorio Marvedi, che valorizzano sia il violino del mare, sia il patrimonio onliutario cremonese. Useremo questo violino in associazione ai nostri violini storici durante le audizioni, specie per le scuole. Questo abbinamento appunto tra stradi vari, che rappresenta chiaramente la summa della liuteria e della musica, con questo violino che ha questo aspetto profente sociale, che è comunque in grado di produrre un suono assolutamente apprezzabile. Inoltre a marzo il violino del mare verrà suonato in cattedrale dagli allievi del Conservatorio Monteverdi, nel concerto Meditazione, organizzato nel ricordo dei 150 anni dalla nascita di Santa Teresa di Lisieux. Bisogna riscoprire la dimensione umana, guardare negli occhi queste persone, riconoscere le loro storie. Cresciamo solo insieme, oggi più che mai. E quindi questi ponti che si creano, anche attraverso questi piccoli segni, sono senz'altro preziosi. Lo strumento, benedetto da Papa Francesco, ha ispirato un artista illustre, il compositore Nicola Piovani, che ha firmato il brano Canto del Cigno.